Reperti archeologici ricostruiti grazie alla tecnologia delle stampanti 3D saranno esposti al buio e potranno essere riconoscibili solo con il senso del tatto. E l'idea alla base della nuova mostra presentata al Marta di Taranto dal titolo Tocca le sue curve, percezione dell'arte. Il museo mette a disposizione quattro postazioni multisensoriali che sono delle postazioni, nascono come postazioni tattili per persone non vedenti e ipovedenti. Che il museo in realtà consente di toccare e di visionare per un pubblico per tutti. Vi siete mai trovati di fronte a un oggetto in un museo dove c'è scritto sempre non toccare? Qui no, qui ci potete toccare, anzi dovete toccare e quando possiamo toccare la testa di Eracle o possiamo toccare il Diotto o possiamo toccare le vene di parabita significa che stiamo includendo naturalmente in questa fruizione, in questa emozione di toccare la storia. L'esposizione rientra nella rassegna MAP Festival e sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito nel Museo Archeologico Nazionale nella Biblioteca Comunale di Taranto da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio. E' assolutamente virtuoso l'appuntamento con l'inaugurazione di questa mostra, tocca le sue curve, la percezione dell'arte. Cosa significa? Andare oltre, oltre la vista, oltre quello che potrebbe essere il senso primario, quello di cui tutti siamo fin troppo abituati e quindi metterci in una condizione di toccare l'arte e arrivare così alle emozioni e al cuore delle cose.